Siamo giovani, ci divertiamo a stare insieme, ci divertiamo a giocare insieme. Siamo un bellissimo gruppo, sembra una frase fatta ma è così e credo che si veda anche da fuori. Abbiamo ancora tanta fame e tanta voglia di vincere, di confermarci, di cercare di portare a termine qualsiasi competizione. È normale che ci sia più pressione, è normale che ci siano più cornici, come ne definisce Fefe, però abbiamo dimostrato negli anni scorsi che possiamo arrivare fino in fondo, possiamo vincere e è quello che cercheremo di fare anche quest'anno. Sì, sicuramente sarà una partita diversa ma come ogni partita in questo europeo è stata. Sarà sicuramente sulla carta più difficile, saranno degli avversari più tosti ma credo che siamo pronti per questa battaglia, siamo carchi e vogliamo cercare di arrivare fino in fondo. Più si va avanti, più è normale che si incontri una squadra più forte e non vediamo l'ora di giocare. Dipende, l'Olanda è sicuramente una squadra che batte bene innanzitutto. C'è Nimir, uno su tutti, che è un grandissimo battitore e poi probabilmente loro sotto la fase di attacco perché loro hanno dei buoni attaccanti di palla alta e due buoni centrali quindi dobbiamo prepararla bene sotto il punto di vista tattico e tecnico per cercare di limitarla il più possibile. Sì, è stata una bellissima atmosfera, una bellissima partita, un bellissimo momento. Ci dobbiamo ancora abituare un po' a tutto questo pubblico perché è effettivamente una delle prime volte che per molti di noi giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, abbiamo sempre fatto competizioni all'estero adesso per fortuna siamo in Italia davanti al nostro pubblico e non possiamo che essere più felici.